O carissimi parrocchiani di Leno, Milzanello e Porzano, anche a nome dei nostri sacerdoti Don Davide, Don Ciro, Don Alberto e Don Renato, desidero farvi giungere una parola di vicinanza e di speranza. Stiamo vivendo tutti un momento difficile e la sofferenza di questo momento è acquita anche dal fatto che non possiamo trovarci insieme a pregare e a celebrare l'Eucaristia. Questo fatto ecco che aumenta notevolmente anche il senso della solitudine. Il Vangelo di questa seconda domenica di Quaresima ci è però di consolazione per il fatto che il Vangelo della trasfigurazione ai Suoi discepoli Gesù ha preannunciato la sua sofferenza la sua passione e la sua morte e risurrezione. Ma di fronte a questa notizia i discepoli sono costernati. Per questo attraverso la trasfigurazione Gesù lascia intravedere la meta del suo calvario e la meta è una pienezza di vita rinnovata, sfolgorante. Questa parola di Dio vuole essere effettivamente una parola di speranza anche per tutti noi, per il fatto che questo Vangelo ci fa percepire che abbiamo un Dio che è capace di trasfigurare, di trasformare la sofferenza, la malattia e la morte in un canto di vittoria, in un canto di vita rinnovata. Proprio per questo, questa bella notizia, questo Vangelo, sia di consolazione per tutti, ma soprattutto il nostro pensiero in questo momento va agli ammalati che sono stati intaccati dal coronavirus e alle loro famiglie, particolarmente colpiti quindi da questa situazione di preoccupazione e di sofferenza. Ma va con animo grato anche a tutti gli operatori pastorali e in modo particolare agli operatori sanitari che in prima linea devono combattere questo virus. Per tutti questa parola sia una parola di speranza. Abbiamo un Dio che non ci abbandona. E allora giunga a tutti voi la mia benedizione che il Signore ci liberi dal male, dalla preoccupazione eccessiva e così pure anche dalla paura. Amen. E allora giunga a tutti voi la mia benedizione Grazie a tutti.